Sono adoperato per la mia città in tutti i sensi, in tutte le maniere, anche durante il Covid che tutti parlavano ma nessuno lavorava. Il carbone è stato sempre presente sul territorio, devo dire che ho sempre avuto un buon rapporto con il sindaco, ci siamo sempre confrontati in modo leale. Naturalmente forse le nostre strade si sono divise magari anche tante volte in un modo inopportune perché il dialogo per me è sempre fondamentale. Con le persone io voglio sempre mantenere un ottimo rapporto, la politica non ci deve dividere. In questo momento potrei dire tante cose ma non tante cose al sindaco perché il sindaco per me è tanto di rispetto, mi ha sempre tenuto in grande considerazione e per questo lo ringrazio. Naturalmente poi lui ha fatto delle altre scelte che qui al momento non mi sento di commentare.